Il giorno dopo il sequestro delle quote societari di Tecnis, disposto dal Tribunale di Catania per presunte infiltrazioni mafiose e l'affidamento dell'azienda all'amministratore giudiziario Saveri Ruperto, i cantieri siciliani sono stati riaperti. A decidere la sospensione dello sciopero e ad esprimere piena fiducia nell'operato di Ruperto sono stati i propri lavoratori dell'Anello Ferroviario di Palermo che in videoconferenza ieri sono stati rassicurati dallo stesso Ruperto sul proseguimento e completamento dell'opera. Venerdì è in programma al Ministero dello Sviluppo Economico un incontro per affrontare i problemi legati a tutti i cantieri della Tecnis, con la speranza di nuovi e positivi scenari per il futuro dell'azienda che, come hanno ribadito i vertici sindacali catenesi, con l'amministrazione giudiziaria può essere pienamente operativa sul mercato.